Musica Buongiorno ragazzi, questa è la Nell'Art che vi propongo oggi Nell'Art molto strana, molto carina, mi piaceva che utilizzare di nuovo gli smalti olografici che io adoro e ragazze, io spero che questa Nell'Art vi piaccia e vi lascio i prodotti al tutorial un bacio grande, ciao! Allora, io ho già applicato la mia base protettiva su tutte le unghie e solamente sull'anulare ho applicato due passate dello smalto olografico mentre su tutte le altre unghie due passate dello smalto a zucchine Ora cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere uno smalto bianco con un pennello molto sottile e andiamo a creare due o tre linee incrociate, molto morbide e molto sottili Ora prendiamo il nostro smalto olografico e ne applichiamo un po' su una superficie impermeabile prendiamo un pennello dalla punta lunga e sottile e andiamo a riempire i nostri spazi Perfetto, ecco fatto Ora cosa succede? Lasciamo asciugare tutto poi diamo una seconda passata dello smalto olografico e poi andiamo a ripassare le linee bianche Ora prendiamo un dotter della punta molto piccola e applichiamo del bianco su una superficie impermeabile e andiamo a creare dei puntini vicino alle nostre linee Ecco fatto Ora lasciamo asciugare Perfetto Ora ripetiamo la stessa identica operazione solamente sull'anulare e con i colori invertiti Ecco fatto ragazze l'anel art è completata io ho già applicato il mio top coat su tutte le unghie Ragazze, io spero che vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo video Un bacio grande Ciao 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 Grazie a tutti